Come abbiamo pensato di proporre per quanto riguarda il progetto Mamma Lingua? A parte la mostra, naturalmente, e poi abbiamo comprato in duplice copie i libri in maniera che avessimo da formare un patrimonio significativo da poter poi tenere e da mettere a disposizione dei nostri lettori. Abbiamo il giorno dell'inaugurazione pensato a una sorta di dramatizzazione ufficiale per accattivare fatta di filastroche, canzoncine, letture in multilingue, insomma, nelle varie lingue considerate dal progetto. Poi la visita della mostra, ma soprattutto delle letture fatte con delle mediatrici madrelingua che hanno poi proposto, appunto, a bambini presenti, peraltro molti, perché erano veramente tanti, queste letture e poi le traduzioni e poi gli giochini, sempre quelli riguardanti, insomma, il gioco linguistico, la lingua presa in considerazione. Alcune classi stanno venendo a fare le viste guidate, perché anche questo ci sembrava importante. Nel momento della visita guidata ci sarà ancora la proposta di una lettura, oltre che nelle due lingue italiano è un'altra lingua, una lingua altra. e, cos'altro dire, questa sera ci sarà un momento poi di approfondimento pubblico per gli adulti, specifico, in cui ragioneremo un po' più a grande raggio sulla lingua madre e sulla ricchezza che sarà presente per la vita di ognuno di noi, insomma, per quelli che sono sfumini, come posso dire, dimensioni un po' più intime e profonde di ciascuno. Una cosa particolarmente interessante che abbiamo fatto all'interno del progetto Mala Lungua, interessante perché è particolarmente piaciuta sia ai bambini che ai non bambini, che è questa, anche a noi, insomma, che è questa. L'abbiamo invitato personalmente a ciascun bambino, quindi ciascun bambino ha ricevuto una lettera a casa con tanto di suo nome, sull'etichetta della busta, l'invito, e gli è stato chiesto di ritagliare un uccellino, che è questo, che è l'ho in iniziativa, e di venirlo a portare in biblioteca e che avrebbero ricevuto un regalino, un semino. Quindi cosa abbiamo fatto? Man mano che i bambini arrivavano abbiamo preparato un nido dove i bambini potevano riporre questo uccellino e ricevere in dono questo semino, che è un libro. L'idea è stata messa in piedi dalla, come direi, l'ideazione di Carmen Carlotta, mi fa piacere citarla perché è sua ed è stata praticamente riuscita, che è una mostra creativa, ed è tratta un po' dalla filastrocca di Tognolini, mamma lingua, l'idea è della mamma uccello che passa il semino al bambino come nutrimento, e quindi da qui l'idea della mamma lingua, della lingua madre, appunto, come nutrimento per i bambini, con tutto il significato e motivo che questo può volerci. I bambini che sono venuti in visita abbiamo spiegato che alcuni libri che loro già conoscono, che i due genitori già leggono in maniera abituale o perché li hanno conosciuti all'asilo o a scuola o che li hanno letto i nonni, abbiamo spiegato che gli stessi libri che ci sono in lingua italiana li possono trovare in lingua cinese e anche in inglese. E alcuni libri mi hanno chiesto se, cambiando il titolo del libro, potremmo cambiare anche il contenuto, ma noi abbiamo il quale preso, abbiamo individuato lo stesso libro, l'abbiamo spogliato e abbiamo fatto notare che sono solo le parole che cambiano, ma le immagini sono sempre quelle. E quindi abbiamo allentato che anche altri libri, poveri, quindi di una quantità che voglio bene, poi abbiamo fatto il cinese e anche l'inglese, e quindi nella stand cinese che abbiamo detto piccolo giallo e piccolo lui, alcuni di loro io lo conosco, io lo so, io lo... E quindi hanno riconosciuto alcuni libri, anche questo qui abbiamo spiegato che nel paese dei mostri selvaggi, loro piacciono tanto i libri con i mostri, che anche in lingua romana e in lingua inglese, il bambino che non conosce bene la lingua italiana, ancora può leggere la stessa storia del bambino italiano anche nella propria lingua. Così abbiamo spiegato con l'inglese, abbiamo preso il personaggio Spotti che è abbastanza conosciuto e con i bambini facendogli lottare le varie alette, i vari nascondini dove si nasconde Spotti, anche qui abbiamo detto che questo personaggio, anche in lingua inglese, nei libri in lingua inglese, i bambini potevano ritrovarlo. Così anche il ruffalo, spiegato anche nelle varie lingue, con i bambini arabo, rumelo, inglese, italiano, e qui si fa il piccolo brucco messazzo. I bambini hanno potuto constatare che le immagini sono le stesse ma cambiano le paroline. Infatti, le ripeto, i bambini mi hanno sempre chiesto se alcuni di loro si sono proprio accomodati sul tappeto e insieme, in maniera automatica, confrontavano quello che io dicevo a voce, verificavano se le pagine corrispondevano agli libri che avevano i propri compagni, quindi chi aveva il libro spagnolo, chi c'era, aveva romeno, chi in inglese, chi in italiano, confrontava con gli altri se corrispondeva alla stessa immagine, alla stessa pisa. Anche con questi libri qua, abbiamo letto anche questi libri, dove ai bambini abbiamo proposto una lettura, oltre al giochino di indovinare chi si nascondeva dietro la figura, il nome del personaggio in lingua francese. Così i bambini hanno scoperto che è Cochon e il nome del maialino. e così andando avanti abbiamo elencato i vari personaggi in lingua. I libri che abbiamo letto durante la mostra sono stati libri in spagnolo, libri in inglese, in francese e in arabo. Ai bambini abbiamo spiegato anche che i libri in arabo hanno una particolarità rispetto ai nostri libri che si leggono da sinistra verso destra e questo è il titolo del libro, non la fine come facciamo nei nostri libri. E quindi sfogliando da sinistra, da destra verso sinistra, loro riescono a leggere. E un bimbo mi ha chiesto stamattina, ma allora vuol dire che dall'altra parte c'è anche la lingua italiana? E io gli ho detto no, gli ho risposto, gli ho detto che il libro prosegue sempre in lingua araba e in lingua italiana troviamo un altro libro, ma che è non lo stesso, il contenuto nello stesso libro. Quindi stamattina abbiamo letto il libro La mia nonna, ai bambini, e abbiamo letto Il piccolo bruco mai sazio in arabo, ripetendo sempre i nomi dei personaggi, i nomi della frutta in arabo e i numeri in arabo. In spagnolo è piaciuta, ha fatto tanto successo la lettura spagnola perché oltre ad avere Enelsina la gallina, che è un libro in rima, che ha fatto molto divertire i bambini, ha fatto molto divertire i bambini, abbiamo letto La lettura no e tanto busca su sito. E la nostra collega, che è spagnola, ha portato una canzoncina spagnola alla Zapatillas che abbiamo fatto con i bambini in cerchio sul tapeto, che si sono divertiti tantissimo, hanno avuto un gran successo, le maestre hanno avuto la copia della canzone e alcune mamme che sono venute in biblioteca ci hanno chiesto la Zapatillas perché i bambini a casa ripetono sempre questa, intornano questa canzoncina e sono curiosi di avere anche loro le parole sia in spagnolo che in italiano. Grazie 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 Grazie